I movimenti ecclesiali sono un dono, sono la ricchezza della Chiesa. Loro Papa Francesco ha dedicato l'intenzione di preghiera del mese di maggio. A Molfetta tre grandi figure di santità confronto Don Tonino Bello, Don Lorenzo Milani e Monsignor Oscar Romero, uomini sempre vicini agli ultimi. In Puglia le cooperative sociosanitarie sono al collasso, al rischio i servizi e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza ai posti di lavoro, la denuncia di Conf Cooperative Puglia. Ritorna a svolgersi in presenza l'assemblea annuale dei soci della Banca di Andria, parola d'ordine, ripartenza al fianco della comunità locale. Notte nazionale del liceo classico, ieri in tutta Italia, la nona edizione della manifestazione promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall'Associazione Italiana di Cultura Classica. Ben ritrovati, edizione aggiornata del nostro notiziario. I movimenti ecclesiali sono un dono, sono la ricchezza della Chiesa. Con queste parole Papa Francesco ha dedicato a queste realtà l'intenzione di preghiera del mese di maggio. Il servizio di apertura è di Damiana Dorotea Sgramella. Nel video diffuso dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa, che presenta l'intenzione di preghiera di maggio affidata a tutta la Chiesa Cattolica, il Santo Padre ha dedicato il suo messaggio alle realtà e ai gruppi ecclesiali. Per il Pontefice sono la ricchezza della Chiesa, parlano lingue diverse, sembrano differenti, ma è la creatività a creare queste differenze. Il video è stato realizzato in collaborazione con il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, tra i cui obiettivi c'è quello di accompagnare la creazione e lo sviluppo delle associazioni di fedeli e dei gruppi ecclesiali. Tanti carismi diversi con una sola missione, annunciare il Vangelo in ambienti diversi e in vari modi. Tra gli altri ci sono gli scout portoghesi in pellegrinaggio con la croce della Giornata Mondiale della Gioventù, i neocatecumenali impegnati nell'evangelizzazione per le strade delle città americane, i missionari di Shalom in Madagascar e quelli di comunione e liberazione nelle Filippine, Sant'Egidio ad accogliere i profughi dalla Libia, giunti con i corridoi umanitari e i ragazzi del movimento eucaristico giovanile, nel loro convegno internazionale in adorazione davanti all'Eucaristia. Il pontefice nel video ha spiegato che questi movimenti e gruppi ecclesiali trovano nuovi modi per mostrare il fascino e le novità del Vangelo. Attraverso lingue che sembrano differenti e con la creatività di ogni carisma rinnovano la Chiesa. Papa Francesco inoltre ha invitato i movimenti a lavorare sempre al servizio dei Vescovi e delle parrocchie. Il pericolo, ha ricordato il Santo Padre, è la tentazione di ripiegamento al proprio interno. A Molfetta un momento di riflessione per mettere a confronto tre grandi figure di santità, Don Tonino Bello, Don Lorenzo Milani e Monsignor Oscar Romero, sempre vicini agli ultimi. Marilena Farinola. Quale sguardo hanno rivolto i tre sui tanti volti fragili che hanno incontrato? Qual è la loro eredità che oggi noi siamo chiamati a custodire? Questi sono solo alcuni spunti su cui si è discusso nell'auditorium Don Bosco della parrocchia San Giuseppe di Molfetta sull'approccio che Don Tonino Bello, Monsignor Oscar Romero, il difensore dei poveri ucciso sull'altare e Don Lorenzo Milani, padre dei ragazzi persi, hanno avuto nei confronti degli ultimi dei poveri. Un'attenzione non di facciata, ma proprio un'attenzione profonda che ha segnato la loro vita e ha segnato sicuramente anche il loro ministero così attento, prolungato, che ha dato anche fastidio perché l'attenzione al povero spesso genera anche disaccordo e disappunto. Sono temi eternamente validi, valevano all'epoca di Gesù, sono valsi al loro tempo, continuano a valere e ahimè credo che continueranno a valere per molto tempo perché fondamentalmente il tema della povertà rimane un tema che sfida le coscienze. Gesù stesso ha detto i poveri li avrete sempre con voi. Un affascinante incrocio di sguardi e di storie voluto dall'Ufficio per le Cause dei Santi in collaborazione con l'Ufficio Scuola e il Centro Missionario Diocesano in occasione del trentesimo anniversario della morte del venerabile Antonio Bello. Ispirati tutti e tre dal Vangelo, da Gesù Cristo, ma tutti e tre appassionati anche di una umanità fraterna che abbatte le barriere culturali, sociali, razziali, religiose e per questo sono sognatori e i loro sogni contagiano ancora e ci devono ancora contagiare di più perché non ne possiamo più di una società che è appiattita sulle divisioni, sulle discriminazioni di ogni genere, sui muri e sulle barriere che dividono. È una comunità umana unita a misura di ogni essere umano e della dignità di ciascuno. In Puglia le cooperative sociosanitarie stanno affrontando problematiche che mettono a rischio non solo i servizi e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ma anche centinaia di posti di lavoro e la denuncia di Conf Cooperative Puglia. Damiana Dorotea Sgramella. Nei giorni scorsi, in una conferenza stampa, Conf Cooperative Puglia ha denunciato le criticità che da tempo stanno esasperando le cooperative sociosanitarie. Al centro del dibattito le tariffe dei centri diurni per diversamente abili e delle RSA e le procedure di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie. È consapevole il mondo delle problematiche delle cooperative sanitarie. In questo momento sono in grande sofferenza perché ci stanno chiedendo delle cose che noi non possiamo supportare. Abbiamo avuto già interlocuzioni con dei tavoli specifici sul tema. Conosciamo la sensibilità della regione, ma oggi è il momento di passare ai fatti. Siamo molto preoccupati perché fra 15 giorni, al massimo mese, probabilmente migliaia di persone perderanno il diritto alla cura e molte cooperative potrebbero non farcela più economicamente. Per cui questa situazione di default è alle porte e quindi è importante lavorare con la regione anche con azioni mediative per raggiungere gli obiettivi. I tavoli fin qui fatti sono stati importanti, ma oggi è arrivato il momento di istituire un tavolo di risoluzione delle problematiche. Il rischio a cui sono esposte le cooperative sociali è quello di non poter garantire i servizi e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Inoltre potrebbero essere messi in discussione anche i posti di lavoro all'interno dei centri stessi, alcuni dei quali non sono più in grado di offrire servizi sanitari e di assistenza adeguati al fabbisogno della comunità. Le cooperative sono letteralmente al collasso. Purtroppo la loro gestione economicamente non regge per alcune questioni su cui la regione non ci dà risposte. In primo luogo il tema dell'IVA. Le nostre cooperative sono costrette a pagare l'IVA quando acquistano beni e servizi per poter poi svolgere le proprie prestazioni. Nel momento in cui fatturano gli viene decurtata l'IVA dalle fatture emesse e quindi è come se pagassero due volte l'IVA, una cosa inaudita e inammissibile. Inoltre le spese di trasporto vengono riconosciute solo in maniera parziale, peraltro non in tutti i territori e infine ci sono delle procedure di accreditamento che si trascinano da troppi anni e non si riesce veramente a garantire a tutti i cittadini che hanno diritto, hanno bisogno di servizi, non si riesce a garantire la possibilità di fruire di queste prestazioni. Ritorna a svolgersi in presenza l'Assemblea annuale dei soci della Banca di Andria. Vediamo com'è andata. La parola d'ordine è ripartenza. All'insegna di questo monito, la Banca di Andria di Credito Cooperativo ha vissuto l'ultima assemblea annuale dei soci, svoltasi in presenza dopo tre anni di plenaria online a causa della pandemia da Covid. Per il Presidente Paolo Porziotta questo ritorno favorisce rapporti e contatti interpersonali, segni distintivi tra una banca locale di credito cooperativo e la sua ampia base sociale. Che cosa farà quest'anno la Banca di Andria? Su che cosa lavorerà? Continuerà sul percorso intrapreso e sui risultati brillanti ottenuti nel 2022, anche se lo scenario chiaramente si presenta abbastanza fluido, però la strategia è tirata e la parola d'ordine si diceva un tempo così è ripartenza. Che cosa significa condurre e portare avanti una banca su un territorio? Un'esperienza meravigliosa, una responsabilità enorme, ma delle soddisfazioni che sono anche in questi momenti di riunione dove la presenza di tanti soci, di tante persone è testimonia della bontà del percorso svolto. E poi è una banca che garantisce anche lavoro a tanti giovani? Come ogni struttura sul territorio è sicuramente a porta lavoro sul territorio e quindi occupazione per il territorio, ma questo è un effetto conseguente alla dinamica principale, che è quella di riportare la chiesa al centro del villaggio, nel senso il credito locale gestito in loco, che è una, a mio modo di vedere, una delle spine dorsali, una delle fondamenta di una comunità operosa e laboriosa come quella andriese. Secondo il direttore generale Nicola Bitetto, pur in un anno di forte transizione come il 2022, la banca di Andria consolida il suo ruolo di banca di comunità. Quali numeri raccontano l'ultimo anno della BDA? Sicuramente è stato l'anno più performante della banca dalla sua apertura. La raccolta si è attestata sui 93 milioni, gli impieghi sui 60 milioni e abbiamo chiuso con un utile netto di 773 mila euro circa. Ripeto, è stato l'anno più performante, è chiaro che tutto ciò ha contribuito al rialzo dei tassi e quindi abbiamo potuto fruire di questo notevole exploit. Quali prospettive si aprono? Beh, insomma, con questo rialzo dei tassi già nel primo trimestre di quest'anno abbiamo registrato un utile netto che è la metà di quello dell'anno scorso, quindi diciamo le prospettive sono più che buone. A pochi giorni dall'anniversario della morte di Aldo Moro, l'associazione Nessuno Tocchi Caino ricorda l'attualità della testimonianza dello statista. Ascoltiamo. Aldo Moro ci lascia una grande testimonianza umana, come ha fatto lui. Oggi più che mai c'è bisogno di unire anziché separare e questo nella sfera pubblica e privata. Sergio De Via, segretario dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, ricorda così lo statista rapito dalle Brigate Rosse e assassinato il 9 maggio del 1978 dopo 55 giorni di prigionia. Lui politicamente voleva anticipare i tempi e lo ha fatto sia nella sua visione dell'Europa e dei rapporti internazionali e interna per quanto riguardava i rapporti tra due mondi, quello del suo cattolico cristiano, della democrazia cristiana e quello cosiddetto dell'opposizione a questo mondo che era quello comunista. In realtà lui voleva conciliare i mondi più separati. Vedeva giusto. Il mondo si regge, l'universo si regge sui legami, sulle relazioni, non sulle contrapposizioni. Lui aveva una visione del mondo come insieme di parti diverse, sì, ma non opposte, non contrapposte. Per Sergio Delia Aldo Moro non ha mai ritenuto inconciliabile l'opposto, anzi desiderava che quest'ultimo diventasse parte di un insieme. Magari oggi ci fossero persone religiose, nel senso etimologico del termine, lui lo era non soltanto a punto di vista etimologico, cioè persone che tendono a legare, a creare ponti, a creare relazioni e legami non diaboliche, che letteralmente anche questo significa invece a porre ostacoli, a separare. E' un uomo di unione, di insieme e questa sua visione è stata quella che ha lasciato come testimonianza, senza Aldo Moro, senza questa sua visione, forse oggi sarebbe, insomma, saremmo ancora fermi a visioni ancora diaboliche del mondo. Il Carlo Troia di Andria ha partecipato alla Notte Nazionale del Liceo Classico che si è svolta contemporaneamente in tutta Italia. Vediamo. Maratone di lettura, recitazioni teatrali, declamazioni e tanto altro. Così il Carlo Troia di Andria ha vissuto la nona edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, evento che si è svolto in contemporanea in oltre 350 licei classici di tutta Italia, a cui quest'anno se ne sono aggiunti 9 stranieri, 2 francesi, 1 tedesco, 2 greci, 1 spagnolo e 3 turchi. Obiettivi comuni? Promuovere la cultura classica greca e latina e valorizzare la preparazione offerta da questa scuola in tutta la sua complessità e versatilità. Qual è il valore aggiunto di una preparazione classica? Noi vogliamo sfatare il mito che il Liceo Classico non è più di moda perché la preparazione classica è una preparazione solida in quanto affonda le sue radici nel mondo classico e noi non dobbiamo mai dimenticare che proveniamo da un mondo classico, dalla cultura classica per cui il nostro presente è costruito sulla base della civiltà greca, della civiltà latina e noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Attraverso i grandi autori del passato noi dobbiamo riprendere i grandi valori quali l'eroismo, la patria, l'amore per la libertà e soltanto così possiamo costruire poi il nostro futuro. Sviluppando i temi della curiositas, dell'importanza della cultura e della conoscenza, oltre che della pace, gli studenti del Carlo Troia hanno recitato passi tratti dalla Divina Commedia e dall'amleto di Shakespeare, hanno affrontato temi filosofici e permesso ai visitatori di immergersi in mondi fatti di cavalieri medievali, cieli stellati e imprese eroiche. Quest'anno studenti e studentesse hanno riflettuto sulla curiositas in particolare, perché siamo fatti per inseguire conoscenza? La curiosità è la molla che spinge verso la conoscenza e quindi i ragazzi hanno esaminato diverse sfaccettature della curiositas e hanno portato sulla scena tante diverse realtà. Il liceo classico non è soltanto questo, amore per il passato, ma è anche proiettarsi verso il futuro, come dicevo, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, attraverso lo studio di materie scientifiche, attraverso, dicevo, anche le lingue straniere, lo studio delle lingue straniere. E soprattutto il liceo classico fornisce un metodo di studio ed è quello che poi porta a progredire, porta ad affermarsi nel proseguo degli studi. E anche il liceo classico Leonardo da Vinci di Molfetta ha celebrato a Corso Umberto la cultura antica e la sfida al limite. Marilana Farinola. Un modo innovativo di fare scuola, puntando su una didattica che si affianca felicemente alle modalità tradizionali di veicolare contenuti. La Notte Nazionale dei Licei, la prestigiosa Kermes promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall'Associazione Italiana di Cultura Classica, giunta alla sua nona edizione, vede infatti gli studenti esibirsi in performance e riflessioni legate ai loro studi e alla valorizzazione del valore formativo della cultura classica. Lo storico liceo classico Leonardo da Vinci di Molfetta quest'anno partecipa in contemporanea con oltre 350 scuole di tutta Italia e per la prima volta coinvolge anche nove licei stranieri. È un modo per portare la cultura classica sul territorio e ovviamente anche una dimostrazione di quanto la cultura classica possa essere vitale, viva, presente a quella che è la realtà nella quale viviamo e quindi non assolutamente è una cosa sorpassata, inutile, ma il fondamento della nostra cultura è quindi qualcosa da salvaguardare, da condividere con gli altri, da portare avanti con tenacia per dimostrare che davvero c'è un futuro diverso grazie anche alla cultura classica. Per questa nona edizione abbiamo deciso una riflessione tematica sulla pace e abbiamo deciso poi per il coro finale un momento, uno stralcio della Medea di Apollonio Rodio impegnata in un momento di inquietudine notturno. Il fil rouge scelto per l'edizione 2023 dalla scuola molfettese verte sul tema Ultralimitem, una riflessione su come l'uomo da sempre abbia tentato in vari modi e con vari esiti di oltrepassare le colonne d'Ercole, a lui imposte dalla sua stessa condizione di uomo. Da un lato noi vedremo celebrare l'uomo, creatura meravigliosa, misura di tutte le cose, nella visione antropocentrica dei classici. Dall'altro però il linguaggio delle immagini mostrerà che cosa ne ha fatto l'uomo dell'eredità di Prometeo e dunque disastri ambientali, emergenze climatiche, la guerra, le ingiustizie sociali. E infatti d'altro canto gli antichi stessi se lo avevano celebrato come creatura meravigliosa ne avevano colto l'ambivalenza, la capacità distruttiva in lui insita quando smarrendo il senso del limite l'uomo in qualche modo diciamo arrecca danni alla natura. Il tema del nostro spettacolo è quello di superare il Limes, il confine, detto un po' come il nostro liceo classico ci insegna. e proveremo a unire la serie tv di Stranger Things con Giacomo Leopardi, un'impresa difficile ma non impossibile. Dal 9 all'11 maggio sbarca negli Stati Uniti, girando per la Puglia, la rassegna organizzata da Levante International Film Festival. Alba Di Palo. Una rassegna per raccontare la Puglia, film per affascinare il pubblico statunitense a cui presentare e far conoscere la storia degli emigranti di chi ha lasciato la Puglia e l'Italia in cerca di futuro. Si intitola Girando per la Puglia, rassegna di film pugliesi a New York, la rassegna che dal 9 all'11 maggio prossimi porterà nella City University di New York la rassegna voluta dall'Associazione Culturale Levante International Film Festival che ha organizzato la Kermess con sei film, tra cui Blue Rose, che sarà proiettato in anteprima mondiale assoluta. Il festival promuove con i suoi film la memoria del passato e il riscatto del presente grazie al cinema fatto dai pugliesi, con pellicole che raccontano di una terra in continua evoluzione ma che non dimentica mai le proprie radici. In cartellone ci sono Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, A Classic Horror Story di Roberto De Feo e Paolo Strippoli, Il grande male di Mario Tani e Il grande spirito di Sergio Rubini con lo stesso regista e Rocco Papaleo, oltre all'inedito documentario Block Notes, storie di pugliesi a New York di Mimo Mongelli. Sei film di registi pugliesi che raccontano la terra, le donne, gli uomini, le storie di Puglia. Tutti i film sono stati realizzati con la collaborazione di Apulia Film Commission, il festival sostendo la regione Puglia, Aret, Puglia Promozione con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Era l'ultima notizia, si chiude anche questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di Teledeon. Grazie per aver guardato il video.